E mi ricordo che andammo a giocare una partita a Caltanissetta e ricordo che ci trarono i sassi contro il Pullman. Non volevano che noi scendessimo dal Pullman. Perché? Perché sappiamo che esiste una parte d'Italia di persone per bene, ma sappiamo che esiste anche una parte d'Italia che non sono persone per bene. Ancora polemiche in vista del prossimo Marie Crio Music Festival del prossimo 2 settembre, quando sul palco dell'evento salirà il cantante Paolo Belli. Un cittadino nisseno, Ottavio Rizza, di 56 anni, ha scritto una lettera ricordando la dichiarazione che l'artista emiliano rilasciò nel 2017 parlando di una sassaiola contro il Pullman della Nazionale Cantanti, in occasione di una gara disputata da quest'ultima nel 1994 a Caltanissetta, aggiungendo che esiste una parte d'Italia non composta da persone per bene. Nella sua lettera Rizza, che ha precisato di non fare politiche attive e di amare la città, ha affermato Giove evidenziare che lei per ben due volte parla di parte d'Italia e quindi chi l'ha ascoltata ha compreso che lei facesse riferimento ad un'area geografica, Caltanissetta, la Sicilia. Lei avrebbe infatti dovuto parlare di parte di italiani se non si fosse riferita ad un'area geografica. Quando si parla di concetti importanti, il corretto utilizzo delle parole è basilare. Nella mia vita, in qualità di nisseno, mai mi ero sentito offeso in maniera così grave a causa di una dichiarazione che testualmente va interpretata in maniera inequivocabile come una vera e propria grave discriminazione ai danni di un'area geografica. Rizza aggiunge, premesso ciò, è evidente che da lei nisseni si aspettano estrema chiarezza. Delle due l'una, o ci conferma quello che lei ha detto era esattamente ciò che lei voleva dire, oppure, cortesemente, ci riferisca che avrebbe voluto dire ben altro rispetto a ciò che ha detto. Valuti, se ritengo opportuno, necessario scusarsi. Solo in queste ultime ipotesi, chiarimenti o scuse, io il 2 settembre la verrei ad applaudire. Invece, se fosse vera la prima ipotesi, la fischierei sonoramente.